Allora Chiara, tu hai fatto la prima edizione, la primissima, quando eravamo tutti più piccolini otto anni fa e poi sei ritornata dopo otto anni a fare questa esperienza. Che ti senti di osservare rispetto appunto a questo poi lasso di tempo che è passato e che magari ti può dare anche un feedback diverso rispetto a chi viene per la prima volta, avendo tu questo lasso di tempo così ampio. Se io sono tornata uno di due c'è naturalmente, sarei voluta tornare a tutte le altre edizioni però purtroppo non l'ho potuto, ma se si torna, si torna sempre perché rimane qualcosa di bello dentro e l'ho ritrovato, l'ho ritrovato ancora di più stavolta, ancora più forte, forse perché poi cresciamo, quindi è normale che cresce poi tutto il resto. Io sono veramente veramente felice di stasera farla in questa piazza perché già l'altra sera quando abbiamo avuto la prima esperienza per quanto riguarda noi della Summer con le persone che frequentano questa piazza e quindi le persone di questo paese e dei paesi limitrofi che sono venuti a trovarci e mi sono emozionata e commossa tantissimo, sia per le loro storie che per la vicinanza a loro, che l'ho sentita tanto e quindi stasera quando noi restituiremo qualcosa a loro, ci scambieremo qualcosa e io sono felicissima di questo anche perché se sono tornata è per questo, non solo per la vostra accoglienza, la vostra disponibilità e il vostro lavoro ma anche per quello che naturalmente poi fate crescere nel corso dell'anno e poi nascere in una situazione del genere e quindi sono molto felice, sono molto starca però mi se ne prego. Grazie Chiara. Grazie a voi. Grazie.